Ho un contenitore d'ottone, questo è il suo coperchio, gentilmente mi controlli che non ci siano fori, fessure, taglio, cose del genere. Dentro c'è un dado e questa è la base. Adesso io non guarderò, metto così, tu gentilmente devi scegliere un numero, metterlo nel contenitore e chiudi tutto con il coperchio. Il numero che scegli sarà quello che punta verso l'alto. Io ovviamente non devo sapere il numero. Perfetto, grazie. Adesso ti chiedo a gentilezza di concentrarti sul numero che tu hai pensato e messo nel contenitore, ok? La mano a sinistra, perfetto, guarda. Tieni il contenitore in mano, va bene? E concentrati. I numeri presenti su un dado vanno dall'1 al 6. Questa fascia numerica comprende in uguale misura sia i numeri pari che i numeri dispari. Ci siamo? La tua scelta mentale potrebbe essersi orientata verso un numero pari. Tu hai scelto il numero 2. Ed shock地. Sì. Adoro. E' Grazie per la visione!